Per quello che costa questo giochino, che in realtà è un giocone, dovrebbe stare nelle librerie di chiunque. Lindi che prendi nel mucchio e te lo dimentichi pure, soprattutto dopo che l'hai finita, e ci torni a casa un giorno e come lo ripigli in mano lo rifinisci. Anche perché, appunto, se sei brutal dura da un'oretta a tre quattro ore, ma proprio massimo. Però insomma, essendo il bello della spedimentazione dello sforzo altrui quando è che hai fatto bene, è che ha un riverbero al di là del tempo, protratto nell'eco della memoria. Quindi, pur semplicissimo, senza pretese, ti trovi colpito. E questo perché? Ti trovi a impersonare i panni, anzi le piume, di Claire Labberbe che trascorre i giorni liberi al parco dove sua zia serve come ranger nella prensione di aspettare una chiamata molto importante, nell'angoscia di non avere campo. L'unico posto dove però il segnale prenderà è in cima alla montagna centrale, cui chiaramente si troverà l'obiettivo finale del gioco. Quindi nella breve scampagnata c'è un invito a fermare il moto perpetuo di una frenesia iperattiva dettata da un'ansia che vuole arrivare subito, con una premura tale che non tanto bruciano ma carbonizzano tappe, anziché incamminarsi un passo alla volta verso quei graduali step che gradualmente garantiranno l'effettivo arrivo a destinazione. E questo soprattutto nell'aumentare le proprie capacità di volo nel raccogliere in questo caso più volte la mistica piuma d'oro, come visto recentemente anche nell'anime di Elden Ring. E il bello? Il bello è che gli sviluppatori del team, che non sono gli ultimi degli stronzi, l'hanno messo chiaro e tondo che sì, tu volendo puoi esplorare la mappa che è aperta come meglio credi, hai a portata di mano, anzi di ala, i mezzi e il modo per raggiungere l'obiettivo al primo utile, ma la domanda è, ne vale veramente la pena? La chiamata che Claire sta aspettando è esterna da fattori controllabili e c'è bisogno di capire che prima di poter volare bisogna prima imparare a correre. Il parco in questo è perfetto perché, disseminato di tanti altri personaggi interessanti con i propri obiettivi che nell'incontrarli si avrà modo di aiutare, erorando l'importanza di quanto ci si sarebbe potuti perdere se nel cieco rincorrere un traguardo fine a se stesso non si fosse data l'importanza a un mondo circostante in cui stiamo esistendo. E di fatti, Claire nel corso della propria escursione riesce a ricordarsi di esistere nel contesto in cui sta vivendo. Giocare a bicivolle e bastonatore dove perde chi non si diverte, pescare senza capire se lo si stia facendo bene perché non c'è un esito, nell'assoluto immediato istantaneo subito, parlare con una lepre angosciata perché ha perso la bandana, porta fortuna per la maratona, e risponderle con la cortesia della tartaruga campione di corsa che vuol regalarle la propria e via discorrendo. Tutti nel parco cercano di fare del proprio meglio, al meglio delle proprie capacità e quando anche quello non dovesse bastare allora non rimane altro che fare quello che si può, cosa che eventualmente coincide col poter dare loro una mano in quanto avventurieri della cortesia. Poi certo, a livello d'ambientazione, il coinvolgimento che deriva dall'essere immersi nella natura canadese e la colonna sonora dinamica, gran tocco di classe che cambia a seconda delle condizioni meteorologiche plus dichiaratissime influenze da parte del Ghibli, anche Animal Crossing, aiutano parecchio a godersi questa esperienza videoludica. Ed è apprezzabilissimo, tra l'altro, che ci sia la scelta grafica in riferimento all'elaborazione dei modelli poligonali del gioco. Così ti puoi pure scegliere quanto far diventare Claire del Caraghe volante, ma che comunque non perde occasione di andare avanti e superare le avversità e in primis col picco della montagna, che essendo la chiusura dell'avventura, propone dei piccoli malus, almeno da dare un sentore di sfida nei riguardi di un completamento. Infatti va bene tutto, ma non ci puoi andare troppo presto. Il modo migliore per arrivarci, peraltro, secondo me, è da fare prima fallendo almeno una volta. Il primo tentativo della scalata bisogna sbagliarlo, proprio per sentire ancora di più quella sensazione di crescita, in una traiettoria che poi diventerà definitiva in una rincorsa, fino ad arrivare ancora più in alto di quanto non potesse essere quell'orizzonte sognato in partenza. Oh, embarkation! In questa nave di pirati, noi siamo capitati... Bang! Trovato quel tesoro che si chiama... Oh, gasp! Il capello di paraffan! Let's go! Ma come cazzo è successo? Piano, 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 con calma, non voglio commentare un infanticidio, c'è già il Gimitino da sopra e io non sono l'isola... C'è già il Gimitino da sopra e io non sono l'isola... Ah!